La Coppa può aspettare. Prima c'è il derby, delicatissimo, collicata in campionato. Slitta di una settimana la gara di andata valida per la qualificazione agli ottavi di finale della Coppa Italia d'eccellenza a memoria il Gianfranco Provenzano tra Canicattì e Profavara. Le date scelte dalla Lega su richiesta della società Biancorossa sono mercoledì 3 ottobre al Carlotta Bordonaro mentre il ritorno al Brucculere è previsto per mercoledì 17 ottobre. A questa fase la Coppa, il Canicattì arriva dopo aver eliminato il Licata mentre il Profavara ha spento i sogni di gloria del Mussomeri di mister Alfredo Mattina. La squadra canicattinese dopo lo scivolone esterno di domenica col Sant'Agata si ritrova ad affrontare un'altra diretta concorrente alla vittoria del campionato i gialloblu ricatesi allenati da Giovanni Campanella e non sarà affatto facile perché di fronte c'è una squadra arrabbiata che vorrà rivalersi sul Canicattì visto che non è stata digerita l'eliminazione dalla Coppa ma maturata proprio a vantaggio degli uomini allenati da Nicola Terranova. Il Carlotta Bordonaro con il terreno sterrato sarà ancora una volta il punto di forza della squadra canicattinese che seppur imbottita di tanti giocatori tecnici ci ha fatto il callo a giocare su questo fondo. Non ci sono abituati invece e si è visto in occasione della gara delle Memorie al Provenzano i ricatesi del presidente Danilo Scimonelli. Attualmente gialloblu che nel loro palmarès hanno anche il gagliardetto della Serie B sono primi in classifica assieme al Mazzara a punteggio pieno dopo appena tre giornate disputate. Il Canicattì è indietro di tre punti. Non ci sarà Francesco Maggio che nella gara col Sant'Agata è stato spulso dall'arbitro con la fascia di capitano, rosso diretto e due gare di stop. Probabilmente il match sarà inibito alla tifoseria licatese così come è accaduto negli anni scorsi in quanto l'osservatorio sportivo della prefettura di Egrigento ha classificato a rischio l'incontro per i pregressi scontri tra le due tifoserie. Ancora non è ufficiale ma sembra che la prefettura sia orientata a confermare questa decisione. La società del presidente Angelo Licata ha indetto la giornata bianco-rossa in occasione del derby con Licata ed ha iniziato la prevendita dei biglietti perché si attende il pubblico delle grandi occasioni. Attualmente i posti disponibili sugli spalti sono 1.200 che potrebbero riempirsi visto l'entusiasmo che si è creato in città per una squadra costruita per vincere il campionato di eccellenza.